Mi è molto piaciuto, l'avevamo proposto allora per le scuole, l'abbiamo riproposto quest'anno in provincia, lo spettacolo gira per l'Italia, l'abbiamo riproposto quest'anno a San Fermo in provincia di Como e c'era passo significativo riproporlo qua a Canzo in occasione dei vent'anni della morte di Moreno in occasione anche del fatto che il coordinamento è nato proprio qua a Canzo nel 97. Niente, lo spettacolo, lo diranno i due attori, racconta quattro storie e all'interno di questo quattro storie c'è un riferimento alla vicenda di Moreno, quindi vorremmo adesso partire con lo spettacolo.